Ah ciao ragazzi come state? Io benissimo perché mi sono arrivati un po' di pacchi interessanti che voglio aprire qui insieme a voi ma prima di iniziare ad aprirli vi voglio ricordare naturalmente di iscrivervi al mio canale instagram perché è un metodo molto veloce e divertente per tenermi in contatto con voi ma detto questo direi di partire e parto dal primo pacco che arriva da amazon apertura facile vediamo cosa c'è al suo interno allora un paio di cuffiettine in ear della ok sono le wireless sport earphones che dite le apro sì dai le apro al volo e vediamo come sono ok 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 è un'azienda che produce prodotti praticamente a 360 gradi produce commercializza perché poi sappiamo benissimo che sono prodotti bene o male tante volte rimarchiati di provenienza cinese ed è questo che gli rende particolarmente convenienti adesso non mi ricordo il prezzo di queste cuffie che è anche un'impresa a scovare qua all'interno di questa confezione però insomma siamo sull'ordine dei pochi euro ma naturalmente vi lascio il link di tutto qui sotto in descrizione in maniera tale che voi possiate vedere i prezzi e le caratteristiche in anche prima si sono un classico paio di cuffie in ear nulla di particolare sembra metallo però non lo so forse è plastica c'è anche la confezione però insomma non c'è molto altro da dire mettiamo da parte e le proverò secondo pacco questo arriva sempre da amazon e vediamo cosa c'è all'interno si c'è uno speaker bluetooth naturalmente non può mai mancare nessun unboxing che si rispetti uno speaker bluetooth questa è un'azienda la OutXe che mi ha contattato perché hanno lanciato questo nuovo speaker che è perfetto per la vita all'esterno dovrebbe essere impregnabile in stile rugged è piccolino con la griglia rossa si è molto molto massiccio proprio in stile rugged perfetto per la vita all'aria aperta al campeggio insomma per questo periodo va più che bene è uno speaker che naturalmente proverò perché non ho la più palida idea della qualità che possa avere me lo immaginavo più grande invece è molto molto compatto ma meglio così visto che va messo nella valigia o nello zaino e proseguiamo con l'apertura dei pacchi questo pacco arriva da arriva da la Germania se ricordo bene ok vediamo cosa c'è al suo interno ok carta wow accessori in legno fantastici sapete quanto amo gli accessori in legno questa è un'azienda la wood accessories che già mi aveva mandato se vi ricordate una fantastica custodia in legno per l'iphone 7 con il quale ho fatto il video degli accessori cool per iphone se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra ovviamente beh questi sono accessori davvero strepitosi un'altra custodia per iphone 7 sempre in legno bellissima molto molto elegante io amo gli accessori in legno voi lo sapete benissimo questa è invece una cover in legno per ipad pro però da 9,7 che purtroppo ho venduto adesso come faccio in qualche maniera qualche maniera per provarla la troverò è legno guardate che fantastica si apre così e questo è in metallo e il retro invece è in policarbonato trasparente bellissima ecco guard si chiama la cover che metto da parte e l'ultimo è l'accessorio più strepitoso perché è un cinturino per apple watch in maglia di legno una cosa così ancora io non l'avevo mai vista è davvero qualcosa di strepitoso e di esclusivo guardate che meraviglia le maglie invece di essere fatte in acciaio sono fatte in legno ma io non vedo davvero l'ora di provarlo con il mio apple watch che oggi non ho il polso perché l'ho messo a ricaricare vediamo cosa c'è all'interno ci sono gli accessori per eventualmente allargare le maglie e adattarlo ai vari polsi che dire grazie a wood accessories che mi ha mandato queste chicche in legno che io apprezzo sempre tantissimo metto da parte magari vedrete qualche foto su instagram quello sicuramente per quello vi dico di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ma proseguiamo con questo pacco davvero enorme che arriva da amazon e vediamo cosa c'è come sempre carta carta e questo arriva da 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 un altro pacco che arriva da ok questa è una lampada da scrivania di quelle proprio che si piegano no con funzioni particolari dovrebbe essere dimmerabile e dovrebbe avere anche delle funzioni smart smart tra virgolette nel senso che probabilmente si può ricaricare lo smartphone collegandolo a una presa usb ma io la apro al volo anche se il pacco è grande la cosa non è facilissima e vediamo all'interno subito cosa c'è cosa c'è oh me l'hanno mandata nera si praticamente è pieghevole con la sua bella basetta si apre così vediamo se ci sta nell'inquadratura andiamo via anche questo cartone voi dovete capire che quando io faccio un video del genere che dura all'incirca dieci minuti beh sostanzialmente poi se ne va almeno una mezz'ora per ripulire tutti i cartoni e le carte di questi pacchi ma vabbè comunque è una cosa abbastanza piacevole ok si è pieghevole come vi dicevo è dimmerabile vediamo se c'è anche la porta usb non la vedo comunque la proverò e vediamo se è il caso di parlarmene in uno dei miei prossimi video metto da parte anche questo metto via il polistirolo e direi di procedere con l'ultimo pacco che arriva da vartolini ma in realtà questo dovrebbe arrivare da uno store che si chiama gmall.it che mi ha mandato il nuovissimo credo che sia lui aspettate che prima di parlare in anticipo apriamo il pacco che poi non dico magari qualche inesattezza allora sì c'è un adattatore quindi è proprio lui questo è il oneplus 5 che ho chiesto a gmall.it proprio perché sono interessato a provarlo è uno smartphone top di gamma molti di voi probabilmente già lo conosceranno recensioni in rete ce ne sono tantissime ma a me non interessava nulla perché avevo voglia di provarlo e capire veramente che tipo di potenzialità ha un prodotto del genere vediamo se riesco ad aprirlo solita confezione sottovuoto qualcuno mi ha consigliato di aprirla dai lati per eliminare il sottovuoto e in effetti funziona non mi ricordo il nome ma ti ringrazio allora eccolo qua oneplus 5 il colore è una specie di grigio sembra quasi il grigio siderale di apple d'altra parte il design vabbè non lo dico io è abbastanza ispirato così come la confezione ed è proprio per questo che ci tenevo a provarlo il primo oneplus che provo è tanti anni che volevo provare un oneplus e finalmente ce l'ho fatta vabbè la confezione è sempre la solita non c'è granché il telefono è questo qui sì però a prima vista devo dire la sensazione è ottima adesso chiaramente farò la configurazione iniziale tranquillamente a casa e poi sempre su instagram vedrete qualche foto e poi nei prossimi giorni probabilmente tra una o due settimane arriverà la recensione perché questa domenica invece arriverà la recensione anzi non la recensione un video dove vi parlerò di Honor 9 il nuovissimo Honor 9 che sto utilizzando in questi giorni che ho qua come dispositivo principale e non vedo davvero l'ora di parlarvi di lui ma detto questo non posso fare altro che ringraziarvi per aver visto anche questo video mi raccomando se vi è piaciuto lasciate un like condividetelo e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale che male non fa grazie un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui sul mio canale youtube